perdi no maledetto lampini ecco e anche questa è andata ma quanto tempo ok ucciso anche lui e ora sbrighiamoci prima che ne appaiano altri non si può entrare per ora ma adesso ti faccio vedere io ecco ora si può entrare ciao Leon ho qui un quesito per espire ho una domanda da farti così ho trovato una serata che plecchio bene e e in pratica queste serature sono portano al cuore del mondo e e se un headless per caso ci entra succede che influenza il cuore del mondo dove il pianeta esplode parole povere cosa per questo è così importante è vero quindi dobbiamo salvare i vari pianeti che troviamo ci sta pensando adesso gli esplode adesso gli esplode il cranio uccide la terra e anche quel e anche quel adesso la strada sul ecco andiamo corriamo cor-cor-cor-cor-cor-cor-cor-cor-cor-cor aspetta prima dobbiamo andare a andiamo a riscuotere la ricompensa che ci da noi cuci di dalma tal ha fatto ecco andiamo ecco andiamo corriamo anche nel adesso andiamo a riscuotere la ricompensa ecco ecco vi ho riportato i cuccioli e adesso dammi la ricompensa se no vi ammazzo tutti non scherzo vi sto prendendo in giro comunque non non ti voglio ammazzare oh finalmente parliamo gli affari un regalato e ma un grazie beh sempre meglio di niente aiuto ha ucciso ha 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 ecco fatto li abbiamo ti ho ucciso stavolta prendiamo i soldi bene abbiamo ottenuto 200 denari ha morite tutti anche tu anche tu ha ti ho fregato pippo o meglio non so chi ti ha fregato per bene però l'importante è che sei stato fregato dove cavolo sei ha 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 aia ha ti ho colpito ma va cagare ha anche questo è morto v ha ha ma perché l'ho usata ha beh io pensavo che .. ha la morte ti ho peccato malo muore ma va caga ecco ok fra poco dobbiamo fermarci adesso ma che faccio adesso prima mi faccio spiegare che cosa è lì ma guarda un po' un gummi blocchi a cosa serve volete scherzare volete volate su un gummi ship e non sapete cosa andare branco di sciocchi lo spazio è infinito non 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 ma il piano Comunque in parole povere questo navi si può percorrere nuove rotte in parole povere grazie alle quali posso viaggiare su nuovi livelli e pensavate che il gioco fosse finito ma in realtà no è tutt'altro che il gioco è il bello ci sono un casino di livelli da fare Comunque adesso adesso aspettiamo e sbrigati ma va a cagare cid ottimo adesso che ci siamo levati dalle palle questo qua salviamo arrivederci